Buongiorno, buongiorno. Quella sono io, Millie. La banale, noiosa Millie. Amo. Il tuo vestito. Credo di averlo visto su un discount online. Non sono mai stata la ragazza più popolare. La festa è questo weekend. Ci sarà anche Booker al ballo. E i ragazzi non mi hanno mai notata davvero. Ammetto che se questo fosse un horror, io sarei una delle prime a essere uccisa. Inquadratura sul tizio inquietante mascherato. Come ho detto... Ma a quanto pare... Succede che... Dove sono? Non sono stata uccisa. Oh mio Dio, perché ho questa voce? Mi sono risvegliata nel corpo dell'assassino. Il macellaio di Blissfield colpisce ancora. Non aver paura. Tu sei nera? Io sono gay? Siamo già morti? Au! Smetti! La sono io, Millie! Dai, dai, Blissfield High. Siamo forti e tu lo sai. Oh mio Dio! E non solo quello psicopatico indossa il mio corpo. Ma spacca. È un lupo travestito da pecora. Quanti nostri amici ucciderà? Sei certa che sia sicuro? No. Oh mio Dio, è una carneficina. Abbiamo meno di sei ore per fare lo scambio. Resterò bloccata in questo corpo per sempre. Dai, sfigato. Devo cacare. Ammetto, non è stato tutto negativo. Scusi, non volevo interromperla. Io... Come ci si sente? Ti farò desiderare di non essere mai nato, brutto scemo. Oh mio Dio, ti sei pisciato sotto. Sì! Ma come sono vestita? Secondo me ti sta molto bene. Aiuto! Oddio, è il macellaio di Blissfield! Fermo! Fantastico. Saremo uccisi da Barbie assassina. Non vedo l'ora di ucciderti. È ora di fermare questo stronzo. Noi ci siamo. Ridammi il mio corpo. Vieni a prendertelo. Lo so che ho l'aspetto del macellaio, ma sono Mildi. È pazzo. Ok, Booker, mi guardi per favore? Booker! Sta zitta, stronza. Booker, aiuta! Booker! Vuoi chiudere la bocca? Booker! Curiosità horror. In Psycho di Hitchcock, Norman Bates, interpretato da Anthony Perkins, è un uomo giovane, abbastanza affascinante e molto molto gentile. In realtà, il personaggio originale del romanzo è un uomo piccoletto, grasso, molto spiacevole e tutt'altro che affabile. Grazie per essere stati con noi. Per altri video e curiosità potete cliccare qui a fianco, qui a fianco a me. Ciao da Valeria.